Lignanese ancora in emergenza in vista del terzo turno di campionato. A zero punti come gli altri rappresentanti di Vallata, la San Giovannese, la matricola bianco-verde dopo le sconfitte di Ravenna ed in casa con lo Scandici si avvicina alla trasferta di Adria contro la squadra che si è presa tre punti al Fedini proprio domenica scorsa. Ancora non è stato trovato il sostituto per l'infortunato di lungo corso. Pagnotta ha sfumato infatti la pista che avrebbe portato a Bartolini. Il direttore sportivo Manganelli ha fatto arrivare più di un giocatore in prova alla corte di Mister Guarducci ma nessuno avrebbe impressionato l'ambiente tecnico in modo importante tanto da far valutare l'ipotesi di proseguire con il gruppo attuale piuttosto che mettersi in cerca di un giocatore negli ultimi giorni di mercato che chiude venerdì. Potrebbe essere quindi più semplice forse ottenere qualcuno successivamente dalle liste degli svincolati ma appunto ad oggi l'alternativa statisticamente più probabile è quella di cercare una soluzione interna al gruppo utile anche a livello di bilancio dato per scontato che un giocatore come il centravanti che presto provvederà alla ricostruzione del legamento crociato resta difficilmente sostituibile.